Vorrei fare un grande applauso per anche il lavoro enorme che fa nel sopportare il sottoscritto, che è un lavoro immenso che poi vedete tutti i giorni riprodotto nella nostra presentazione quotidiana come popolo della famiglia. Massimiliano ha fatto un'ultima fatica letteraria che si chiama La cultura del matrimonio, lo trovate all'uscita. È l'ultimo lavoro che ha prodotto e che sta girando un po' dappertutto a presentarlo. Abbiamo voluto dedicare questa intro dei lavori pomeridiani proprio a questo tema, perché penso che, come abbiamo detto, van bene tutte le analisi sulla denatalità, van bene tutte le analisi sulla crisi della famiglia, eccetera, ma se non rinasce, come è il titolo del libro di Massimiliano, una vera e propria cultura del matrimonio, sono tutti discorsi interessanti, ma poi non hanno una caduta nella realtà, non hanno una ricaduta nella vita quotidiana di ognuno di noi. Credo che questa riflessione che Massimiliano offre a tutti possa essere poi anche l'occasione per andare ad incontrare i più giovani, soprattutto che possano avere dentro di loro e servare dentro di loro e mettere su famiglia e dargli delle ragioni valide, pratiche, praticabili e comprensibili, per cui questa fatica vale la pena di farla. Quindi do la parola a Massimiliano Fiorin. Grazie a me e grazie a tutti, ho ancora il mudo del moderatore, indosso, quindi chiudiamo alle 15.30. Allora vi ringrazio tutti, consentitemi di fare un primo ringraziamento che è doveroso per mia moglie, mia moglie Nunzia che adesso non è qui, ma spero che ci stia seguendo nella diretta Facebook che forse sarà anche iniziata, perché senza di lei non potrei essere quello che sono e senza altro è di ispirazione anche per questo libro che ho scritto, che poi è il terzo che scrivo, che è proprio teso a difendere le ragioni del matrimonio e della famiglia. La cultura del matrimonio, tu hai detto che si chiama, come dicevo, il terzo libro. Adesso tra l'altro quello che volendo trovate qui sono le ultime copie che ho fatto uscire in self-publishing, perché adesso i diritti sono stati acquistati dalle edizioni Ares e quindi dovrebbe presto uscire una nuova edizione proprio delle edizioni Ares. Quelle che però eventualmente se vi interessa trovate sono ancora uscite in self-publishing quando le ho fatte uscire. L'Ares non è il mio editore principale, prima i primi due libri che ho scritto li ho scritti per le edizioni San Paolo e poi vi dirò per quale motivo questa volta non ho potuto ripetermi con la San Paolo. Insomma mi racconto un po' la storia cercando di stare nei tempi. Il terzo libro, il primo che ho scritto, l'ho scritto nel 2008, si chiamava La Fattrica dei Divorsi, edito da San Paolo. E qui insomma è una cosa che mi è venuta in mente di scrivere, io allora non avevo, l'ho scritto che non avevo neanche l'editore, è una di quelle cose che ti vengono in mente di scrivere per via di quello che avevi iniziato a vedere nella mia esperienza di avvocato civilista. Io poi non ero all'epoca, non lo sono neanche adesso, un familiarista in senso stretto, nel senso che non mi occupo esclusivamente di separazioni, divorzi, perché probabilmente se fosse in quell'ottica farei fatica a, come dire, potere vedere le cose nello stesso modo con cui le ho viste, perché quando sei dentro un meccanismo poi fai più fatica a tastrarti. Di fatto mi è stato detto, quando uscì il primo libro, che ero l'incarnazione del mito americano, del tacchino che vota per le feste di Natale, di fatti si diceva che non si era mai visto un avvocato che potesse scrivere sul mondo delle separazioni e dei divorzi. Quello che ho scritto io, che poi non mi sembrava, cioè è uno di quei libri che insomma senza saperlo, ho cercato un po' di adottare lo stile che è anche del nostro Mario Adinolfi, nel senso fare parlare il più possibile i dati, no? Cercare di dare uno spaccato su che cosa è veramente, nel nostro paese ma tutto il mondo occidentale, la realtà della separazione e del divorzio. Quello che accade veramente nelle aule dei tribunali e nella vita concreta delle coppie che incontrano il fenomeno della disgregazione familiare. Proprio perché mi ero accorto che in effetti è qualcosa che ci riguarda in tanti, ci riguarda nella nostra società un numero stabilizzato, ma ormai enorme di persone. Voi pensate che ormai stabilmente ogni anno in Italia ci sono 80.000, dalle 80.000 alle 90.000 nuove separazioni e 50.000-60.000 nuovi divorzi che poi adesso tendono a impennarsi per via della legge sul divorzio breve. Nel 60% dei casi sono coinvolti i figli minori, anche perché se non ci sono figli tendenzialmente è più difficile che si arrivi alla separazione e al divorzio proprio perché è anche più difficile che si arrivi al matrimonio. Poi questa è una tendenza, nel senso che le coppie senza figli tendono anche a sposarsi sempre di meno ed è questo stato il motivo che ha ispirato il secondo libro. Insomma io ho voluto raccontare quello che vedevo che succedeva veramente, che succede veramente, cioè il fenomeno di enorme sofferenza, disgregazione, violenza. Voi pensate, io vi parlo ancora di quello che succedeva nel 2008, però noi possiamo dire chiaramente che nel nostro paese, solo nel nostro paese, il fenomeno della separazione e del divorzio fa più morti di quanti non ne facciano le grandi organizzazioni criminali di mafia, camorra, drangheta messe insieme, perché si parla di circa 120-130 morti come tributo di sangue all'anno derivanti proprio dalla sofferenza, dalla separazione e del divorzio. Che poi adesso se ne parla, voi lo vedete rubricato come femminicidio, adesso nel 2008 non se ne parlava ancora come oggi, ma è un fenomeno che già lo vedevate sempre sulle cronache dei giornali. Insomma non è solo il femminicidio, perché poi molto spesso non viene uccisa solo la partner femminile, sono omicidi, suicidi, e spesso vengono coinvolti anche i figli. Sono delle esplosioni di violenza enormi che distruggono completamente un nucleo familiare, insomma sono certo ovviamente i casi estremi, non sono la normalità, però la violenza che si scatena in questi casi è effettivamente molto forte e molto poco indagata, perché se ne parla pochissimo, quantomeno se ne parla pochissimo nei suoi esatti termini. Io ho cercato di scrivere un libro che proprio racconta dall'interno questa realtà e cercando di far vedere quello che succede veramente. Insomma devo dire che poi è stato pubblicato dalla San Paolo, ho avuto un certo seguito soprattutto nel mondo cattolico diciamo, poi nel mondo forense, nel mondo degli avvocati, quello che avevo cercato principalmente di raggiungere pur non scrivendo un libro pensato come testo giuridico, perché sennò sarebbe stato diverso lo stile, un libro che ho cercato di scrivere, come anche quest'ultimo, della cultura del matrimonio. Insomma nel mondo giuridico ovviamente non ha avuto la stessa accoglienza, e l'ho visto dalle reazioni che ho avuto, io mi ricordo sempre che l'unica volta che l'ho potuto presentare ad avvocati nella mia città, mi avevano messo a dibattere con una collega la quale vedevo che se l'era preso ogni tanto, citavo una o due o tre frasi prese dal libro e diceva, sentite cosa dice, non ci posso credere, poi ha detto anche che, ma io non ci posso credere, e poi sentite cosa ha scritto, io non ci posso credere, tutto così, no? E lei dice, sì, ma qua sono tutte cifre, dati, numeri, tu puoi contestare minimamente nel merito la verità di quello che io ti dico su questo fenomeno che ci riguarda poi noi particolarmente come professionisti, e lei dice, no, no, nel merito sarà anche vero, però io non posso credere a quello che tu scrivi, e di fatti fai capire, insomma ha fatto capire la realtà, è una realtà alla quale più che non poterci si credere non si vuole che la si racconti. Insomma questa è stata la prima esperienza, poi va bene, è uscito un altro nel 2012, e adesso si arriva a questo, cultura del matrimonio, io l'ho chiamato così perché nel passare degli anni ho capito che effettivamente il problema non è veramente il divorzio, no, il problema adesso è proprio il matrimonio, perché è il matrimonio che è in crisi, e c'è un'accelerazione di questa crisi che è palpabile anche dal punto di vista statistico che è iniziata a partire dal 2000, a partire dall'inizio del nuovo secolo, non solo perché la gente divorza sempre più spesso, ma anche perché ormai non si sposa più, il numero dei matrimoni è in calo verticale, non solo nel nostro paese, forse ancora più nel nostro paese che in altri paesi che in altri paesi d'Europa e nello stesso Nord America, e senz'altro c'è una ragione in tutto questo, senz'altro non è qualcosa che avviene a caso, io penso di poterlo anche capire, perché il matrimonio per come è diventato, per come è percepito, per come è praticato per la generalità delle persone, senz'altro non è più attraente, non ha più senso, perché ha smesso di essere quello che avrebbe sempre dovuto, è sempre stato in tutte le civiltà umane, fin da quelle più antiche, e cioè un negozio giuridico che non riguarda soltanto privatisticamente i due sposi, ma riguarda l'insieme della società, riguarda gli sposi, riguarda i loro figli, ma riguarda la società tutta, perché il matrimonio è un contratto, perché essenzialmente è un contratto, un negozio giuridico per i tecnici, che non riguarda soli i due sposi, riguarda tutti, è qualcosa che ci riguarda tutti, ed è sempre stato così, fin dalla notte dei tempi, perché è l'alleanza naturale che è alla base della società e non garantisce soltanto la sicurezza affettiva degli sposi, ma garantisce, garantisce la continuazione della società, garantisce sicurezza sociale, garantisce soddisfazione delle esigenze di vita fondamentali di tutti, voi sapete che c'è un studio sociologico che effettivamente ci dice che in effetti se noi andiamo a fare un'indagine, chiedere proprio, cercando di ottenere risposte sincere alle persone, ma voi, qual è l'ideale, il modello di vita che vorreste se poteste scegliere come vivere la vostra vita, oppure se siete persone già un po' avanti con gli anni, qual è l'ideale di vita che avreste voluto praticare, se avreste potuto scegliere la vostra vita secondo i vostri desideri. E la percentuale di quelli che dicono che loro avrebbero voluto o che vogliono per il loro futuro sposarsi, convivere sempre con la stessa donna o con lo stesso uomo e avere dei figli è ampiamente maggioritaria. È ancora nel desiderio della grande maggioranza percentuali, secondo queste rilevazioni, attorno al 90%. Allora, per quale motivo se la gente veramente ancora desidera il matrimonio poi non si sposa più? È quello che poi io ho cercato di dare una risposta per quanto potevo in questo saggio in cui raccontando anche delle vere storie ho cercato di capire che proprio il problema è della cultura del matrimonio. Perché ci ho dato questo titolo? E ce l'ho dato in contraposizione è quello che si sente spesso dire nel mio mondo giuridico dicono bisogna costruire una cultura della separazione perché poi gli operatori si rendono conto che in effetti come cioè fin da quando ho iniziato a occuparmene ho notato che il paradosso è che non si può parlare di questo fenomeno per quello che è perché ufficialmente il divorzio e la separazione sono delle conquiste di civiltà sono considerate delle conquiste di libertà la nostra società è considerata dal pensiero dominante come una società più avanzata più civile proprio perché ha dato un tanto la possibilità di separarsi e di divorziare perché poi quella è sempre esistita cioè 5.000 anni fa come c'era il matrimonio c'era anche il divorzio non è neanche tanto quello il problema il problema è vero che oggi dagli anni 70 in Italia e in tutto il mondo occidentale ciascuno degli sposi può divorziare solo volendolo senza doversi premunire di giustificazioni senza neanche trovare il consenso del partner perché anche se la legge non direbbe proprio così è stata data la possibilità di separarsi e divorziare come diritto soggettivo incondizionato come diciamo noi questo ha fatto esplodere il fenomeno ha fatto sì che le persone si trovino travolte non appena iniziano le difficoltà che poi ci sono nella vita di tutti in ogni matrimonio ci sono difficoltà e quando ci si trovano in mezzo la separazione del divorzio è una corrente alla quale si fa sempre più fatica ad opporsi perché non trovano mai le persone comuni qualcuno che fin dall'inizio la mia voce scusate ho sentito rimbolo fin dall'inizio non trova quasi mai nessuno che li proponga in misura credibile un'alternativa le persone che vanno in crisi nel loro matrimonio è la prima persona che incontrano molte volte un avvocato uno psicologo pochi un mediatore familiare ma tutte queste persone non si mettono mai così in qualche modo nelle condizioni di mostrare loro a un'alternativa a una separazione la più veloce ed efficiente possibile no cercano di condurli a quello che per loro è il risultato di civiltà cioè la separazione efficiente la bella separazione la separazione tra persone civili cioè quella dove non si litiga più di tanto i figli sono gestiti bene dal punto di vista della loro gestione di quotidianità se sono figli minori e il patrimonio è diviso senza dover andare a scannarsi dovrebbe essere una cosa bellissima ma allora perché la gente si ammazza si spara si creano tutte queste tragedie perché effettivamente dalla risposta che cerco di dare non si può costruire una cultura su quello che è un fattore di digregazione perché il fattore di civiltà è il matrimonio e lo è sempre stato e lo è tuttoro in tutte le civiltà non è la separazione voler costruire una civiltà della separazione equivale a voler dire costruiamo la civiltà dell'aborto o la civiltà non so delle evasioni fiscali delle rapine in banca tutte cose che esistono ma nessuno pensi di volerci costruire sopra una civiltà perché sono e lo si percepisce meglio per queste altre cose l'opposto di quello che dovrebbe essere un fattore di civiltà e allora il problema qual è? costruire di nuovo una cultura del matrimonio e a me guarda io quando vengo a fare questi discorsi adesso cercando di parlare un po' in fretta per i tempi contingentati però mi viene sempre in mente che una cosa che io poi lessi tempo fa e l'aveva scritto il beato Antonio Rosmini che l'aveva scritto nel 1853 o 1854 quindi stiamo parlando prima dell'unità d'Italia quindi una cosa ancora molto molto risalente quando era ancora inimmaginabile quello che poi è successo nella nostra società a partire dagli anni 70 con la diffusione del divorzio come diritto soggettivo e come fenomeno di massa e lui proprio faceva una polemica perché scriveva il beato Rosmini all'epoca un grande pensatore filosofo cattolico che all'epoca fu come dire considerato eretico dalla chiesa ufficiale del suo tempo e adesso è diventato beato a dimostrazione che effettivamente non c'è sempre lo stesso pensiero come dire da parte della gerarchia gerarchica ecclesiastica ufficiale e lui scriveva ma stiamo parlando del 1853 quindi mica l'altro ieri che polemizzando contro il fatto che nel Lombardia Nomado Veneto lui era di Rovereto avevano introdotto il matrimonio napoleonico il matrimonio civile perché prima non esisteva fino all'800 chi si sposava si sposava in chiesa non esisteva il matrimonio civile è un'invenzione napoleonica e in Italia era arrivato nel Lombardo Veneto nel 1850 giù di lì e lui polemizzava dicendo ma se noi cominciamo a introdurre e la cosa poi tra l'altro colpiva le persone perché le persone non erano abituate all'idea che ci si dovesse sposare dal sindaco era una cosa nuovissima per i tempi sconcertava la gente e lui scrisse se noi cominciamo a dire che il matrimonio gli diamo un fondamento insicuro fluido come quello delle leggi civili che variano spolvariare delle maggioranze e non gli diamo quel fondamento solido suo proprio che è in Dio allora noi creeremo un matrimonio insicuro un matrimonio alabile e si arriverà queste sono parole di Rosmini al giorno in cui la gente dirà ma che bisogno c'è di sposarsi non possiamo convivere e basta questo lo diceva nel 1853 capendo con un anticipo più che secolare quello che era il fondamento se tu togli il fondamento in Dio ma togli anche il fondamento pubblico al matrimonio la gente dirà ma che bisogno c'è di sposarsi che può esattamente quello che sta facendo che però ci sia bisogno di una cultura del matrimonio lo dico nei fatti io adesso e mi avvio a concludere 3.26 ho già ancora l'animus del moderatore cerchiamo anche di dare delle indicazioni come appunto nei testi precedenti parlavo di un'esperienza statunitense che è quella del covenant marriage che serve in matrimonio alleanza ci sono alcuni stati americani che di fronte alla crisi del matrimonio hanno introdotto la possibilità di contrarre fin dall'origine del matrimonio che non è completamente indissolubile però gli sposi prima di sposarsi si impegnano a divorziare soltanto quando ci sono motivazioni serie e dopo aver affrontato un periodo di mediazione familiare quella che nel nostro paese non è obbligatoria non lo diventerà mai probabilmente perché non si vuole togliere ai soliti operatori la possibilità ma forse anche perché poi se voi andate a vedere veramente come è praticata la mediazione familiare ormai sapete che i mediatori familiari te lo dicono il nostro compito non è quello di cercare di aiutare le coppie in crisi ad evitare la separazione o superare la crisi assolutamente no non ti ascoltano nemmeno se non siete già separati molti si rifiutano di vedere anche perché dicono la nostra funzione è quella di confezionare un divorzio efficiente ecco l'idea nostra era quella di dire superiamo quella che poi sta nel testo della cultura del matrimonio cerchiamo di superare queste impostazioni cerchiamo di costruire una cultura del matrimonio attraverso la conciliazione familiare che cos'è la conciliazione familiare insomma in Italia è ovviamente qualcosa che è all'anno zero io mi ricordo che abbiamo iniziato a parlare c'è un mediatore familiare Marco Scaramagnani è Veneto no io mi ricordo che l'ho conosciuto perché lui mi fece una recensione un'intervista quando uscì la fabbrica dei rivorsi no lui era entusiasta perché proprio diceva lui da mediatore familiare tu dici quelle cose che nessuno dice ma sono propriamente vere e dopo 3-4 anni mi ricordo che ci telefonanno e lui mi disse ma sai che sono passati già 5 anni io mi sono accorto che io sono l'unico mediatore familiare che agisce in un certo modo e penso che tu sei l'unico avvocato che agisce in un certo modo perché non ne abbiamo mai conosciuti degli altri e diceva vabbè allora cosa vogliamo fare andiamo a vedere altre esperienze ci sono altre esperienze che provengono soprattutto dagli Stati Uniti c'è una realtà come dire di voler cominciare ad affrontare il fenomeno della crisi di coppia cercando di indagare nelle ragioni cercando di costruire un'alternativa sulla quale si costruisce un metodo alternativo di mediazione familiare che non esclude la possibilità che poi si arriverà alla separazione o al divorzio ma che può essere praticato nel caso che almeno una delle parti anzi tutte e due le parti sostanzialmente lasciano aperta la porta alla costruzione di un'alternativa alla possibilità di ricostruire la loro unità familiare non volerla considerare perduta neanche nel momento in cui effettivamente tutto ti dice che dovrebbe esserlo perché poi in realtà molto spesso non è così poi certo ci sono tanti casi in cui veramente queste unioni sono compromesse ma se tu le affronti anche tecnicamente come avvocato come mediatore in un certo modo riesci a evitare che si arrivi agli effetti più distorti e devastanti voi pensate che la maggioranza degli avvocati i miei colleghi oggi cerca di favorire la separazione il divorzio dicendo ma guardate che i figli tante volte poi le coppie specialmente le mamme in crisi dicono però sai io non ne posso più di mio marito o io non ne posso più di mia moglie però sai i figli insomma mi dispiace perché insomma e sono gli avvocati che ti dicono ma no ma guardate allora meglio che vi separiate adesso che sono ancora piccoli perché effettivamente adesso soffriranno di meno ma poi non è un grosso problema ci sono delle relazioni che proprio sono portate nei convegni di studio in cui si dice che la separazione non è un problema per i figli cercano di raccontarci quella che poi è un'infernale bugia perché in realtà poi come dire certo la vita ci può portare ma poi in realtà non si può andare a dire che sia un bene per i figli andare a raccontare che i figli siano contenti che i loro genitori si separino perché non lo sono mai e non hanno un avvocato non hanno nessuno che li rappresenti perché quelli che rappresentano i loro genitori nella separazione quelli che giudicheranno sul caso sono tutti concordi sul fatto che il loro interesse che dovrebbe essere quello principale in realtà se va bene è il secondo bene io devo concludere so che potrei parlare molto più a lungo ma i tempi stringono il libro aspetta un attimo fammi dire solo una cosa il libro ha la prefazione di Costanza Miriano penso che gradirebbe perché anche io l'ho dedicata a mia moglie sentivo ieri che quando presentava il libro di Mario diceva che gli piaceva che fosse dedicato a Silvia sua moglie anche il mio è dedicato a mia moglie forse per questo Costanza è stata contenta di farmi la presentazione poi insomma anche io ho cercato di parlare d'amore se così possiamo dire perché nel presentare alcuni casi concreti che si affidano alla conciliazione familiare ho raccontato storie vere che in qualche modo forse insomma non danno soltanto come dire il pessimismo ma dicono che un'alternativa esiste e ci sono delle situazioni in cui veramente se ci si mostra un'alternativa alle persone si può evitare dell'interesse degli interessati degli sposi ma anche dei loro figli la separazione or bene e concludo l'ho fatto uscire ho mandato il mio libro al San Paolo editore come è editore degli altri miei libri mi rispondono mi scrivono che non me lo pubblicano più non me lo pubblichiamo più avvocato perché non ci piace quello che ha detto perché secondo la San Paolo non ha mica l'editori uniti perché poi pensava che la San Paolo l'avesse detto e poi finale soprattutto guardi non siamo d'accordo a tutto lo spazio che lei dà le idee di Costanza Miriano questo poi la San Paolo la San Paolo è me che sto parlando di e le dico Costanza le l'ho anche detto ma si vede che non sono molto popolare da quelle parti e che non mi è sembrato neanche una grossa mossa commerciale comunque tanto per farvi capire che effettivamente certe cose cominciano a essere difficili da dire anche nel nostro contesto nel nostro mondo e quindi ci fa capire ancora una volta di più per quale motivo c'è il popolo della famiglia ad ogni modo adesso scusa se ti blocco l'applauso ma finisco quello che vedrete qui è il self publishing che ho fatto visto che la San Paolo mi ha detto di no ma adesso uscirà una nuova edizione spero che conterranno il prezzo di copertina per la Ares che invece insomma mantiene dritta la barra bene vi ringrazio grazie